Ciao a tutti, ma i soldi contano in amore? Molti uomini sono convinti di sì. Parlando con molti uomini ti dicono, ma quello becca perché ha soldi, quello lì... Allora, io no, non ce la farò perché non ho soldi come posso conquistare quella donna. Ma dunque, è tutto parzialmente vero o parzialmente falso, nel senso che molte donne si agganciano a uomini ricchi, ma non lo fanno per amore, lo fanno per convenienza. Quindi se intendiamo che con i soldi si può scopare, sì, basta anche che paghi una, questo è... Ma non puoi far innamorare, non c'entra in assolutamente nulla. Cioè, puoi trovare una che ti sposi, una che venga con te, una che stia con te, o viceversa, è uomo, donna, che ci sono ragazzi che vanno a cercare le vecchie milionarie per spolparle, diciamo così, quindi questo va da una parte all'altra. Ma non è amore, quindi i soldi in amore non contano. Nell'agganciare le persone, sì, però agganci le persone perché di fatto le compri, tra virgolette, o qualcuno ti vuole sfruttare, quindi ti fa credere di essere innamorato o innamorato di te, ma in realtà non lo è. Per cui è molto meglio prima far vedere di non avere... Anche se sei ricco, non farlo vedere. Perché rischi di attirare, sì, donne, ma quelle che vogliono pupparti i soldi e basta. Se sei... Anche se sei donna, non conviene, non conviene. E' negativo, perché vai a falsare il tutto, insomma. E non sarai mai certo che lei viene con te per come sei te o per il conto in banca che hai. Se poi non te ne feria niente e vuoi semplicemente rimorchiare, va bene. Però non stiamo parlando più di amore, stiamo parlando di un'altra cosa. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici. Ciao!